Sono Antoniae, sono io la portiera, sono venuta a piegare la chiave del terrazzo ce la dovete avere voi perché ieri non mi avete ridata e io devo ridire i panni Ma che c'avete? E non pensavo a voi, quando uno è solo in casa e se ti sono nella porta Ah si eh? Prevete questo che volevo parlare, come si dice a Roma, meglio sole che mal accompagnate Io non so niente per carità, ma quello che sta di là mi pare proprio uno di quelli che è meglio perderli che trovarli Ah il signore di fronte, sì siccome quando è scappato allo smunda lui gentilmente È salito da voi, ah io non mi impliccio eh, non voglio sapere niente, insomma a cochecchi non è So solo che è un po' strano, un lunatico, insomma per dire tutto a me non mi piace Ecco Ma che sta a fare ancora da là? Mi sta riparando il lume della cucina Ma chi è quello? Io non gli avrei riparare ma che segno la monnezza Ma si può sapere perché ce l'avete tanto con lui? Io dico proprio due figlietta mia Oh a frequentare certa gente una può pure finire i tuoi eh Io prima non lo volevo dire ma quello... Potremmo capire eh Eeeh... Una mezza cartuccia, un distattista, antifascista Che poi in poche parole sarebbe come dato il figlio della mignotta eh Ma nooo Oh! Io vi ho avvertita Poi fate come vi pare E muo datemi la chiave che devo andare a ritirare i panni Si è fatto pure tardi Trocato Quante cose